Termina 1-1 il match di Piedimoria tra i padroni di casa e lo legge un risultato tutto sommato giusto per quanto visto in campo. In cronaca dopo 4 minuti, primo tiro della partita porta la firma di Moretti. D'Auria respinge di pugni alla nono punizione insidiosa di Pallotta. Palla che danza pericolosamente in area ma viene allontanata dal numero 1 di casa. Taddio al 25esimo spunto sulla sinistra di Stefanazzi che converge tiro centrale. Al 28esimo punizione di Pagliotta, Taddio non è perfetto nella circostanza, la palla non viene toccata da nessuno e termina in rete. Al 37esimo calcio di punizione invece di Brunetti, palla alato a 46esimo. Back cross di Panzani, stacco di Gallo, palla alta davvero di poco. Nella ripresa alla quarto, fallo su Brunetti, calcio di rigore dal dischetto lo stesso Brunetti e bravissimo. D'Auria a negargli il pareggio, al 28esimo però l'1-1 arriva, angolo di Brunetti, imperioso stacco di testa di Pettineroli e 1-1 al 38esimo. Clamorosa occasione per l'Oleggio, il neo entrato Saporiti, ha sulla testa la palla del 2-1 ma non dà forza alla sfera. Al 45esimo punizione di Pagliotta, respinta difettosa di Taddio, Capacchione ribatte la palla in rete ma era in offside. A giudizio dell'assistente, al 46esimo, 30 secondi dopo, Taddio, bravissimo, questa volta a chiudere lo specchio della porta a Minniti.